Tempo fa caricai un video in cui vi dissi di lasciarmi nei commenti un messaggio con scritto qualcosa da farmi fare per una serie E avete lasciato certi commenti da pazzi, chissà perché me lo aspettavo da voi Ed eccomi qua oggi nel primo episodio della serie Detto Fatto In cui andrò appunto a fare tutto quello che mi dite voi nei commenti Infatti vi chiedo subito di andare a lasciare il commento per il secondo episodio che arriverà a 8000 mi piace ragazzi Questa serie è molto molto figa quindi voglio un bordello di like da parte vostra Mi raccomando scrivete la cosa più pazza che vi viene in mente da farmi fare in una partita di Fortnite Sia esperimenti, sia non lo so challenge strane, troll, tutto quello che volete ragazzi Vi dico non ho letto ancora, cioè ne ho lette un pochino dei commenti che mi avete lasciato E io ho veramente paura di quello che mi avete scritto Però magari il cappuccio me lo levo perché vi dico solo che ci sono circa 1000 commenti Quindi scusate se alcuni di questi non li leggero neanche Non l'ho ucciso? Non ha funzionato Non ha funzionato E io è tutto Ok Non è, non è, non è, non è, non è Ferris here no Very good Il problema è che è già finita Però era buona Ve lo giuro era buona Vabbè Che la madò è che Uh yes Scusate ma non posso mangiarmi la carta C'è capite E vabbè E niente E niente E niente Eh sì Divertente Ok Oh yes Oddio salta 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 Ragazzi mi sta facendo male il dito In una maniera impressionante Poi io il bello è che salto con l'analogico E ho l'analogico rialzato Quindi veramente Tra un po' mi vengono i muscoli Al dito Salta Oh no 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 Mi sto facendo male il dito ragazzi Guardate cosa faccio Devo saltare in continuazione Eino E va bene Eh cosa 글' Eh Lutale Ragazzi La cosa più difficile di questa cosa è lutare Cioè vi rendete conto Spero che le altre siano un po' meno faticose Veramente Cioè sto prendendo le armi Anche in base alla sfida che devo fare Ho tutta roba per pushare Con questo posso sparare senza mirare ad esempio Cose varie Ok 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 Devo saltare anche con questo Avete ragione Oh cacchio mi dimentico di saltare Quando ho la mitraglietta Salta 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 e boom Salta Boom E vabbè Allora mi stai sfidando eh Eh mi stai sfidando eh Ho bisogno veramente di uccidere Ragazzi io ho pushato quello con 5 di vita No 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 Meno male che stanno rompendo da due parti diverse sono stupidi Qua ancora non erano aperte le casse Lol Saltando mi passa la voglia anche di fare materiale veramente No 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 devo saltare Come faccio No ragazzi Non ci credo Devo sparare per forza senza mirare No ragazzi lo devo pushare per forza Ok Ok Più saltare di così guardate non si può Ok perché non ho continuato a sparare non lo so Mori Mori Ok Vabbè ragazzi ma cosa sta succedendo non ci voglio credere io che sta succedendo una cosa del genere dai Facciamo così e possiamo andare di nuovo in safe Comunque prima non so se vi siete resi conto ma durante il fight io praticamente stavo saltando immobile capito in che senso no? Quando praticamente si scarica Scusate se l'ho mirata ma c'è un altro nemico Salta 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 Mo te faccio esplodere io mo te faccio vedere io come si usa Mi faccio vedere io come si usa Mamma mia mamma mia Eh me l'ha usato meglio di me Allora bro giocare all'incontrario sotto sopra mi dispiace ma al momento non penso di poterlo fare ma posso dirti che metto la visuale invertita Cioè penso che intendevi questo comunque Oh no 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 Ma qui non è la difficoltà uccidere un nemico qui la difficoltà è atter... si è atterrare Vabbè alla fine non è difficile Praticamente di invertito c'è solamente il basso e la si non riesco ad atterrare neanche ragazzi Allora sapete che vi dico io metto adesso metto la visuale dritta così e non la muovo più Cammino sempre dritto così No di qua di qua di qua di qua vai qua oh No ragazzi io non ce la faccio mi dispiace io non ce la faccio mi viene mal di testa a giocare così scusate ma faccio ammazzare Che peccato sono morto nooo Metto fatto Ok L'ho rotta Non è morto nooo Nooo Nessuno ha atterrato sulla torre questa è sfiga O forse ne ha atterrato uno Fermi Oh Oh Ma quanto... no me l'hanno fregato non ci credo Non ci credo non ci credo Ok sta succedendo veramente di tutto in questo video quel tizio mi ha fregato la kill ma va bene così è venuta comunque una cosa troppo bella Se non avete ancora lasciato un like se non avete ancora lasciato un like Mi stai dicendo che dovrei fare 999 di materiale e poi lasciarli eh ok ok ci sono Oh cacchio I miei piani stavano funzionando Oh Oh Oh, questo non sparava ragazzi A lui sparare non piaceva Guardate che armi che ha No, 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 no È atterrato un nemico qui È atterrato un nemico qui Ok 998 no? Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Allora, lasciamo lì anche in un bel modo Questi 999 di materiale E non ho più 999 di materiale Ragazzi, sono un nab No, perché ovviamente per fare le strutture Non serve il materiale No, Mattiz Io Non posso ancora Eh, vabbè ragazzi No, 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 no No, 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 no Fermo Senti, basta, basta Non ne voglio sapere più niente Prenditi tutto il mio materiale Ok, il nemico mi ha sentito Non devo riprendere Eh, ho ripreso tutto il materiale Ragazzi, io non so cosa dire Ma dov'è? Ah Ok 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 Oh, shit Via Via Scappiamo via da qua Eh, sì, vabbè Voi ce l'avete con me Voi ce l'avete con me Lana Cioè, ragazzi Io ho fatto mille di materiale Non so se ci rendiamo conto Adesso non ho materiale per fightare Eh, è giusto per dirvi Per farvi capire la situation Sei Eh, vai Eh, vai Sì, grande Vi rendete conto che è stato più faticoso Fare 999 di materiali E lasciarli Che fare una partita Saltando per tutto il tempo Vero? Bro No, bro, 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 bro Dai Non ti faccio niente Non ti faccio niente Dai Non ti faccio niente No, 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 no 10 di pit Eh, vabbè Ma cosa sta facendo, ragazzi? Non mi deve toccare Non mi deve toccare Uh Cosa sta facendo? Ragazzi Vabbè, ragazzi Io non so che dire Questo è il video più epico Che io abbia mai fatto No, 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 no Sono caduto di sotto Io, ragazzi, vi saluto Lasciate un mi piace Se ancora non l'avete fatto Mi scrive Eh, eh, sì Vabbè Vabbè Va bene Se ancora non l'avete fatto E Fatemi finire bene questo video, ragazzi Io ci ho provato a ballare sulla torre Però Vabbè Lasciate un mi piace Perché questa serie è veramente divertentissima Mi sono divertito troppo A fare quello che mi avete detto voi nei commenti E mi raccomando Quindi continuate a scriverle anche qui A altre Ovviamente diverse da questa Noi ragazzi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Proviamo a raggiungere gli 8000 like Se no non vi porto la seconda parte Il secondo episodio Penso che questo veramente Se vengono idee fantastiche da parte vostra Potrà essere la serie più bella Che abbia fatto in assoluto nel mio canale E niente Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.